pace e bene cari amici bentrovati in questa trentesima domenica meditiamo sul testo di luca 18 9 14 potremmo dire che continuiamo la scuola di preghiera iniziata domenica scorsa dove gesù ci ha illuminati sulla necessità di pregare sempre senza stancarci oggi illumina invece come pregare come stare alla presenza di dio in particolare sottolineando il valore che ha l'umiltà davanti a dio andiamo dunque al testo gesù si sta rivolgendo a coloro che avevano l'intima presunzione di sentirsi giusti e disprezzare gli altri questi due aspetti sono collegati tanto più una persona si sente a posto o non avverte la gravità del suo peccato non ha consapevolezza delle sue fragilità e delle sue difficoltà tanto più si sente in diritto di disprezzare gli altri comunque di guardarli dall'alto verso il basso ecco il signore allora racconta la parabola che segue proprio per convertire i cuori di tutti e specialmente di coloro che hanno questo problema abbiamo nella parabola due personaggi un fariseo e un pubblicano entrambi salgono al tempio di gerusalemme per pregare ma diametralmente opposti sono i modi con cui si rivolgono a dio anzitutto il fariseo ecco il fariseo ricordiamo era parte di questo gruppo del giudaismo di persone che avevano a cuore di fare la volontà di dio in tutto e per tutto e di santificare il loro quotidiano quindi a tal fine avevano portato le leggi di purità del tempio nella vita di ogni giorno quindi cercavano di seguire tante regole per fare in tutto la volontà di dio ma il rischio di quest'uomo che finisce per sentirsi giusto per ciò che fa vediamo anzitutto il vangelo dice che pregava tra sé uno potrebbe dire pregava tra sé cioè nella sua interiorità in silenzio ma ci può anche far pensare ad un altro aspetto cioè che si rivolgeva a sé cioè parte pensando di pregare e rivolgersi a dio ma in realtà come abbiamo visto e come adesso rileggeremo fa l'auto elogio di sé dice infatti o dio io ti ringrazio perché perché io non sono come tutti gli altri uomini ladri adulteri ingiusti io infatti digiuno due volte la settimana e pago la decima di tutti i miei beni allora vedete quest'uomo come si pone davanti a dio come suona il suo modo di dire di fare in modo molto arrogante presuntuoso ci dà un po fastidio al sentirlo è una persona che si sente a posto si rivolge a dio anche l'atteggiamento fisico in piedi sta ritto nel tempio fiero di sé vedete parte per ringraziare dio ma si rivolge a dio nel frattempo coltiva sentimenti di superbia e di disprezzo verso gli altri e si ritiene giusto a posto perché perché lui fa delle cose cioè si identifica con ciò che fa fa sì delle cose buone per carità anzi fa più di quello che prescriveva la legge la legge prescriveva infatti di digiunare una volta a settimana lui digiuna due la legge prescriveva di pagare la decima di alcuni prodotti di offrirla al tempio lui dà la decima parte di tutto quindi fa delle cose buone il problema è che lui vede solo queste non vede più tutta la realtà di sé allora vedete diceva anche papa francesco che non basta chiedersi quanto uno prega ma è importante anche chiederci come preghiamo o meglio come il nostro cuore è importante esaminarlo per valutare i pensieri sentimenti ed estirpare arroganza ipocrisia perché non si può dire di pregare e nel frattempo avere arroganza e ipocrisia non si può dobbiamo pregare ponendoci davanti a dio così come siamo è necessario imparare a ritrovare il cammino verso il nostro cuore recuperare il valore dell'intimità del silenzio perché è lì che dio ci incontra e ci parla solo a partire da lì possiamo incontrare autenticamente dio ma anche gli altri ecco il problema di avere contatto con sé avere contatto con la propria interiorità rendersi conto di ciò che siamo davanti a dio dicevano gli autori spirituali vuoi sentirti meglio degli altri confrontati con chi è peggio vuoi avere giusta consapevolezza di te mettiti davanti a dio e lì illuminati dalla grazia chiedere veramente che il signore ci illumini renderci conto del nostro peccato delle nostre fragilità delle nostre incoerenze dei nostri moti interiori di tutto ciò che veramente appartiene alla nostra miseria e renderci conto di quanta misericordia dio abbia verso di noi dunque facciamo tanta tanta attenzione perché nel cammino di fede specie per chi frequenta è facilissimo che le cose buone che facciamo diventino degli sgabelli per innalzarci al di sopra degli altri tutto ciò che di buono facciamo rendiamo grazie a dio ma insieme a ciò che di buono facciamo rendiamoci anche conto di come siamo e di quanta bontà pazienza abbia dio e abbiano gli altri nei nostri confronti ritornando al testo dall'altra parte abbiamo invece il pubblicano il pubblicano che sta alla porta del tempio non ha neanche il coraggio di alzare lo sguardo verso l'alto inginocchiato si batte il petto dicendo o dio abbi pietà di me peccatore diametralmente opposto il pubblicano che era uno che secondo la mentalità di quel tempo era un uomo perso senza possibilità di salvezza collaborava con i romani era esattore delle tasse per loro era l'impuro per eccellenza il rinnegato costui ha invece un atteggiamento vero davanti a dio implora misericordia è bello il termine abbi pietà è come a dire fammi l'emosina e l'emosina mi la tua misericordia trasforma la mia vita verete che cosa è l'umiltà l'umiltà non è quella di disprezzarsi e neanche quella di tenere gli occhi sempre verso il basso e neanche quella solo di dire parole brutte contro se stessi l'umiltà è la verità di sé davanti a dio la persona umile la persona consapevole di sé consapevole dei suoi pregi di cui ringrazia il buon dio consapevole dei suoi limiti sui quali pazientemente lavora ma che al di sopra di tutto si sente amato perdonato salvato da dio è la persona umile la persona dunque che ha consapevolezza di sé quest'uomo davanti a dio si sente piccolo sa che ha bisogno di dio per essere giustificato nella scrittura essere giustificato non vuol solo dire essere scusato ma essere reso giusto davanti a dio cioè poter vivere all'altezza del sogno di dio poter vivere una vita giusta bella libera dal male il fariseo si sente giusto a posto in virtù delle sue forze delle sue capacità e non si rende invece conto che un povero corrotto il pubblicano invece fa i conti con la sua miseria e tornerà a casa giustificato reso giusto da dio vedete in conclusione ritornando ancora sull'atteggiamento di questi personaggi chiediamo a dio davvero la grazia di fare attenzione alla superbia il fariseo diceva papa francesco è l'icona del corrotto che fa finta di pregare ma riesce solo a pavoneggiarsi davanti a uno specchio così nella vita chi si crede giusto e giudica gli altri e li disprezza è un corrotto e un ipocrita la superbia compromette ogni azione buona suota la preghiera allontana da dio e dagli altri che il signore allora ci aiuti a combattere questo vizio tremendo della superbia ci aiuti a riscoprire la bellezza dell'umiltà riscoprire la libertà profonda che si sperimenta quando si impara a riconoscere a confessare il proprio peccato quando si impara a chiedere scusa a dio e al nostro prossimo allora la nostra vita diventa più libera e liberante perché quando lasciamo che la misericordia di dio tocchi la nostra miseria anche noi diventiamo più misericordiosi con la miseria degli altri che dio allora ci aiuti ad essere sempre più umili sempre più come lui ci ha sognati pace e bene e buon cammino e buon cammino